Salve a tutti, siamo a Ho Chi Minh, città del sud del Vietnam, una delle città più importanti del paese, alla Galleria QC, una delle attrazioni più significative, imperdibile. Si trova a circa un'ora dalla città e tra le varie cose qui spiegheranno le gallerie, è possibile per i turisti entrare in un tunnel che è molto stretto ma è più largo di quello che ero stato ai Viet Cong. Si tratta di un posto della grandissima importanza in ambito della guerra perché ha permesso di prolungare la guerriglia e poi di portare i Viet Cong alla vittoria contro l'esercito del sud e gli alleati americani.